Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video diverso da tutti gli altri poiché parlerò di una mia esperienza, un'esperienza negativa con DOT. Cos'è DOT? DOT è un'azienda, per chi non la conosce, che opera anche in Italia per il noleggio nelle città metropolitane, diciamo, nelle grandi città, di monopattini e biciclette a pedalata assistita. Nel mio caso io parlo di Rowan, la mia esperienza è quando vivo a una città in cui vivo. Premetto che questo non vuole essere un video per screditare DOT, ma parla solamente della mia esperienza personale, per cui per chi lo sta già utilizzando e si trova bene, libero di farlo, fatelo. Chi intenzionata a farlo, a utilizzare DOT, fatelo, ve lo consiglio, però volevo parlare di quello che mi è capitato. Allora, premetto che io ho utilizzato, ho già effettuato delle corsi di DOT anche qualche anno fa, praticamente all'occorrenza, prevalentemente con biciclette elettriche. Qualche mese fa ho deciso invece di utilizzarlo in modo un po' più continuativo, quotidianamente, perché grazie all'abbonamento che ho qui a Roma con i mezzi pubblici di Atac, quindi avendo l'abbonamento alla Metribus Card che mi permette di utilizzare Metribus Atac, con una convenzione è possibile acquistare un panchetto di un tot di corse di 30 minuti gratuite al mese, quindi un tot di corse da 30 minuti per 2 centesimi, quindi praticamente gratis. Quindi ho utilizzato questa convenzione per fare cosa? Per raggiungere dalla mia abitazione alla prima fermata metro più vicina che si trova a circa 1,6 km da casa mia, poi puoi proseguire con la metro, i mezzi pubblici, il mio posto di lavoro e lo stesso ritorno. Quindi al ritorno utilizzare i mezzi, arrivare all'ultima stazione metro più vicina a casa mia, e poi dalla stazione metro raggiungere a casa tramite uno dei loro dispositivi, quindi un monopattino o una bicicletta elettrica. Allora, innanzitutto premetto che nei primi giorni, così così, un po' difficile da trovare nella mia zona i dispositivi, spesso è capitato di trovare anche delle biciclette in cui l'assistenza di pedalata non funzionava molto bene, non c'era un modo per segnalarlo direttamente, ma termine la corsa, quando ti chiede di fare la foto dove parcheggi, poi affronteremo anche questo tema, che è quello, diciamo, principale di questo video, c'era anche la possibilità di effettuare un feedback sulla corsa con delle faccine. Ovviamente io, in quei casi in cui la bicicletta non funzionava bene, ho inserito la faccina triste rossa, indicando poi che il mio disagio era dovuto a dei problemi tecnici. Però, nonostante la segnalazione, nessun riscontro da parte di DOT. Andiamo dunque. Che succede? Che qualche settimana fa ricevo una mail da DOT, in cui mi si contesta un parcheggio di monopattino, dicendo che il mio monopattino era stato parcheggiato su marciapiede, mi hanno anche legato la foto che io ho effettuato dopo il parcheggio, e che, secondo le nuove normative, non è possibile parcheggiare i monopattini su marciapiede. Al che io, un po' perplesso perché nella zona in cui vivo, non ci sono degli stalli né messi dal comune, né messi da queste aziende in cui parcheggiare i dispositivi. Per cui, non c'erano soluzioni alternative, se non quella di lasciare su marciapiede, anche se devo dire che io l'ho fatto in modo civile, perché ho utilizzato un marciapiede molto ampio, l'ho parcheggiato in un punto del marciapiede che non causava, in alcun modo, il disagio ai pedoni. Ma, nonostante ciò, io ho risposto, appunto, argomentando queste lieve pressità, chiedendo anche istruzioni, perché in questi casi, quando non ci sono stalli dove parcheggiare, ditemi voi dove farlo, perché non posso di certo lasciare il monopattino a bicicletta sulla carreggiata, per cui attendevo le istruzioni. Dettagli, ma dopo qualche giorno a questa mail me ne arriva una in cui semplicemente mi si dice, per la riassumo, che secondo loro sono consapevoli che è frustrante ricevere queste segnalazioni da parte degli utenti, però le regole sono regole, ho ricevuto una contestazione, alla prossima contestazione, via account della Google Cane. Quindi, non mi hanno in alcun modo disposto le mie argomentazioni, le mie domande, i miei dubbi, a nulla. Che succede poi? dopo più o meno una settimana ricevo una seconda mail uguale di contestazione in cui mi si dice che ho parcheggiato normalmente un monopattino in maniera irregolare e ciò causava quindi, essendo la seconda segnalazione, al blocco del mio account. Il problema è che questa volta non c'era neanche una fotografia di come ho parcheggiato, ma soprattutto la data e l'orario in cui mi si contestava questo parcheggio irregolare in realtà io non ho effettuato nessuna corsa, per cui rispondo come l'altra volta la mail appunto con queste mie, diciamo, questa mia replica e mi ricevo la solita mail che a questo punto immagino sia una mail automatica in cui mi si dice la stessa cosa quindi il mio account conferma e bloccavo. Quindi, io ho parcheggiato male del tavoro anche se non ho fatto nessuna corsa, ho l'account bloccato quindi non potevo verificare e dimostrare che effettivamente quel giorno non ho effettuato nessuna corsa perché non avendo accesso l'account non posso visualizzare la cronologia delle corse per cui sono stato brutto e cattivo senza possibilità di replica per cui mi hanno bloccato l'account. Cerco di fare un po' di ricerche e scopro che se non ho capito male che DOT utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le foto dei parcheggi e fare queste segnalazioni poiché è un'intelligenza artificiale che può essere soggetta a errori è possibile contestare il problema è come contesto vado nei contatti vedo che c'è una chat a questa chat mi risponde un bot a cui io chiedo immediatamente di parlare con un operatore perché è inutile che mi metta a contestare con un bot mi bastano via chat sempre un operatore al quale gli mostro questa mia perplessità scrivo i miei dubbi su questa segnalazione è lui che dice che deve girare quello che ha appena scritto al tipo di competenza perché lui non può aiutarmi in alcun modo va bene fatto questo dopo due giorni ricevo ad enesimo americo pincolla in cui si dicono che sono consapevoli che è frustrante ricevere queste segnalazioni ma il mio account è bloccato e non possono sboccarlo quindi anche se ho sbagliato non posso aver sbagliato posso dimostrare di non aver sbagliato no non posso farlo non posso portare le mie argomentazioni non posso neanche se ho sbagliato non posso neanche chiedere istruzioni su come non sbagliare perché vengo bloccato sanzionato e niente basta il account è bloccato ma io che sono per la verità e sono anche curioso perché non mi piace questo modo di comunicare in modo automatico a questo punto cerco di mandare una pack cerco la pack sul sito nel registro delle imprese mando una pack a dot in cui scrivo tutta la storia quello che è successo le mie argomentazioni e fino ad oggi dopo 15 giorni forse anche due settimane mi hanno ricevuto un discount quindi questo atteggiamento da parte di dot io non ho capito per quale motivo sia fatto in questo modo anche perché c'è da dire che qui a Roma e soprattutto nella zona equivo tutti i monopatti i bicicletti quindi tutti i dispositivi dot ma anche di altre compagnie come Uber Lime sono tutti parcheggiati quasi tutti sui marciapiedi e spesso anche in condizioni critiche quindi mi chiedo sono stati bloccati gli account di tutti gli utenti perché se a questo punto secondo loro non bisogna parcheggiare su marciapiedi e non ti porniscono le taudi se è il comune che deve installare le zone per parcheggiare i monopatti nelle biciclette piuttosto che il dot stesso che deve fornirle non si sa non è da lo saperlo per cui a questo punto mi chiedo se sono tutti bloccati gli account poi io perché non sono malpensante e proprio perché non sono malpensante per me è stata una coincidenza forse che io ho queste corse gratuite quindi hanno bloccato a me l'account ma chi lo sa con questo volevo solo raccontarvi questa mia esperienza ripeto se voi vi trovate bene continuate ad usarlo se vi è capitato qualcosa di simile fatemelo sapere nei miei commenti grazie a tutti per l'attenzione e andrò a piedi perché questo è l'incentivo alla mobilità alternativa ciao a tutti